Nuovo capitolo della nuova edizione di Detto Fatto, l'amato show pomeridiano di Rai 2 dedicato al tutorial. Dopo un primo capitolo scritto dalla spumeggiante Serena Rossi, torna la titolare del longevo format, colei che lo ha attestato e cresciuto, Caterina Balivo. Dopo un breve periodo di maternità, quindi, Caterina torna alla conduzione di Detto Fatto, per Serena, invece, si aprono le porte di Rai 1 condurrà il nuovo programma del sabato sera. Dal canto nostro, invece, continuiamo a documentarvi le opere dei cuochi più capaci e creativi, che, attraverso pratici tutorial, intendono formare gli spettatori più volenterosi. Eccoli, di seguito.La settimana lunedì, il ritorno del giovane cuoco prodigio Paolo Griffa.Martedì, la torta made in USA di Francesco Saccomandi e la specialità italiana di Ilario Vinci Guerra.Mercoledì, il maestro pasticciere Davide Comaschi propone una delle sue creazioni.Giovedì meno venerdì meno le ricette di oggi ha detto fatto in aggiornamento le ricette delle scorse puntate per le altre ricette delle precedenti settimane e delle passate edizioni.